La solidarietà e il gran cuore di Napoli vincono ancora. Diventa realtà l'acquisto del macchinario di telemonitoraggio, un sistema utile alla rilevazione dei parametri vitali del paziente attraverso l'impiego di uno smartwatch anche da remoto. Il Chartie Event, organizzato dal gruppo Le Due Torri per il centro clinico Nemo dell'ospedale Monaldi di Napoli, presso la Chianchierea Gourmet, ha raggiunto l'obiettivo che era stato prefissato. Collegato attraverso il bluetooth con lo smartphone, l'orologio intelligente invia i dati relativi ai parametri vitali misurati alla centrale operativa del patente ventilato a domicilio o del patente cronico in assistenza. Soddisfazione nelle parole del fondatore del gruppo Le Due Torri, Salvio Passariello. È da sempre che abbiamo dimostrato grandissima solidarietà con piccoli gesti e mai avevamo immaginato di poter raggiungere un così grande risultato utilizzando il marchio del gruppo Le Due Torri e quindi coinvolgendo un po' tutte le nostre figure, tutti i nostri ragazzi, tutti i nostri amici, tutti coloro che sono quei clienti affezionati che tutte le settimane sono qui a darci una mano a poter continuare questa sinergia che si è creata con il progetto Nemo. Sì, perché siamo abitanti di un quartiere molto vicino, sia in termini di location, perché siamo a pochi metri dall'ospedale Monaldi, ma anche a Roma con il Policlinico Gemelli abbiamo iniziato una grandissima attività di sinergia. Queste serate servono soprattutto a creare gruppi di amici che insieme si danno degli obiettivi nella solidarietà. Riuscire a dotarsi della strumentazione permetterà di monitorare i parametri vitali, in particolare quelli respiratori dei pazienti più gravi che si trovano allettati presso le loro abitazioni. Un progetto che era firmo da anni e che oggi trova compimento permettendo di salvare vite, sottolinea così Salvatore Don Giovanni, direttore clinico del Centro Nemo di Napoli. È un progetto estremamente importante perché ci permette di evitare a questi pazienti, per esempio, l'accesso in pronto soccorso, condizioni comunque di acuzie che mettono anche a rischio la vita degli stessi pazienti e quindi ci permette di operare meglio per il bene di questi pazienti stessi.